Allora sono partito da Milano e mi sto recando al wake up call di Alfio Bardolla Siccome con la mia attività di influencer, creator, ho guadagnato 2-3 euro Adesso vado da Alfio Bardolla e mi faccio dire come amministrarli A parte gli scherzi, non vedo l'ora di arrivare Perché Alfio siamo amici, lo seguo da tempo Dice un sacco di cose interessanti E finalmente per questo wake up call ci sono anch'io Sono sicuro di imparare delle nozioni sui soldi, sugli investimenti, su cose immobiliari Per abbandonare definitivamente la povertà E avvicinarmi sempre di più al mio grande obiettivo della vita E cioè vivere di entrate automatiche e non dover più andare a lavorare Alfio sto arrivando, tienimi posti migliori davanti Scusa, mi hanno detto che qua si diventa ricchi Ma è più o meno È possibile Allora mi puoi segnare, Frank Ramuglia Quello per diventare ricchi, vai